Parte il dissing qua e adesso iniziano ad odiarsi i youtuber grazie a questo video che ne sapete Animali animali benvenuti in questo nuovissimo video sul canale Già un paio di youtuber l'hanno portato ed è veramente interessante Un gioco stile questo o quello che vi piacerà un botto perché si tratta di youtubers Mi raccomando raggiungiamo il like del video se non volete vedere un altro Io vi auguro una buona visione Questo è un gioco da intellettuali Bello a tutti ragazzi ragazze sono anime bentornati in questo mio nuovissimo video Poco fa come avete sentito ho detto che questo era un gioco per intellettuali Ma una piccola cerca di intellettuali ovvero quelli come voi Quelli come voi che guardano youtube e youtubers tutti i giorni compreso i miei video E quindi questa è una sorta di quiz che dobbiamo fare insieme Come potete vedere davanti a me ci abbiamo youtuber smash Ho visto il video dal jumpy tech lo saluto un show bello che tendenzialmente questo gioco funziona appunto con il decidere tra due nomi che verranno dati di youtuber Chi secondo te secondo me ha più iscritti e ovviamente c'è un punteggio Ogni risposta che dai corretta è un punto se no se se sbagli ricominci da capo Numerosi youtubers italiani messi a confronto chi ha più iscritti tra i due sfida te stesso e i tuoi amici su youtuber smash E voi direte vabbè ma qua è facilissimo no perché ci sono degli youtuber che purtroppo non conosco neanche io O magari conosco e non so l'esatto numero di iscritti che hanno Mi raccomando animali animali superiamo i 50.000 mi piace se volete vedere un altro episodio E magari un altro episodio anche su trivia kingdom che sono sempre questi giochi di quiz E direi che possiamo iniziare subito Iscritti aggiornati ad agosto 2017 quindi ci siamo Ok Dario mocha channel o studio lead channel Va bene allora studio lead channel mi dispiace io non ti conosco non so minimamente che cosa tu faccia nella vita A parte stare in uno studio Proviamo Dario mocha E ho sbagliato Bene vabbè ma meno di zero non si può fare quindi questa era la prima prova era quella dei bambini Quale youtuber ha più iscritti? Gabo G Squared? BOOM O scherzi di coppia? Allora Gabo G Squared mi spiace ma Gabo G Squared cioè campione in assoluto Milione e quasi 200.000 iscritti contro i 600.000 di scherzi di coppia Quindi un ponteggiolino Antoniano di Bologna Chi sei? Non lo so Contro Matt Zero Penso che Antoniano di Bologna ne abbia di più Ne aveva di più Matt Scusami Matt Non lo sapevo Ma perché perché dovevo sì votare Matt almeno lo conoscevo andavo per fiducia Diceva vabbè almeno Matt lo conosco vabbè Benissimo Highscore 1 E io che volevo vincere il gioco è impossibile vincere il gioco Marco Mengoni avevo Golden Jumpy Allora cantante contro youtubers questa cosa Adesso che non so minimamente gli iscritti che hanno io direi di andare solo youtuber così per solidarietà Ecco Golden Jumpy E vai così Golden Jumpy che batte Marco Mengoni Prossimo dai dobbiamo arrivare a due dobbiamo sempre migliorarci Daniele Doesn't Matter contro Lorenzo Giovanotti Di nuovo youtuber contro cantante Mi spiace Giovanotti ti lancio un faffo Ma Daniele Doesn't Matter Sazza Piscuiti vero? Ehm infatti un milioncino contro mezzo milioncino eh Tac Beppe Grillo contro Dogo TV Official Quindi il canale dei Club Dogo contro Beppe Grillo Allora non lo so minimamente ma penso che Non essendoci più Club Dogo Direi che Beppe Grillo Ne ha di più Vabbè però sei infame 320.000 contro 282.000 Che cosa ne so non è che io ho il conteggio matematico nella fronte Vediamo di arrivare a 5 ok Giorgio Capello di Gra... Stavo dicendo Giorgio Capello di Grax Vabbè mi scuglio strano Cappello di Paglio contro Grax Allora Secondo me sono molto vicini gli iscritti Ma secondo me Grax ne ha di più E vai così di 40.000 Era un po' come dire youtuber nuovo contro youtuber vecchio Anche qua youtuber nuovo contro youtuber vecchio Il pancio contro Frank Matano Frank Matano ha più di un milione Il pancio non lo so So che il pancio va bene su facebook Ma youtube non lo so Proviamo Frank Matano Ormai c'ha il canale fermo tipo È diventato una roccia il suo canale fermo lì in un angolo Bah è così ma io perché ci ho anche ragionato Un milione e due contro 257 Lo sapevo che era forte il pancio solo su facebook Sevi show contro Frenchmall Un gruppo contro la ragazza Non lo so Secondo me i Frenchmall ne hanno 500.000 Mi sta venendo l'ansia Proviamo i Frenchmall non lo so Va bene Ok perché io continuo a farmi i film mentali Io pensavo ne aveva Vabbè sono rimasto un po' indietro Devo aggiornarmi un po' Marci contro coccole sonore Ho mollato ho sputato Allora Marci io voto te Mi raccomando è te Se no ti busto io su youtube Non puoi fatti battere da coccole sonore Chi è coccole sonore? Marci Ma come è possibile? Ma non è possibile? Chi cazzo segue? Vabbè Marci ti do qualche coccola sonora anch'io E ti do qualche iscritto dai Bene siamo arrivati a tre Evviva Sempre meglio Jamie Tights contro film eclipse All'italiano medio guarderebbe il film O ascolterebbe il rap Proviamo Jamie Tights E invece ci ho sempre torto Evviva Andiamo a suddiamo belli forti Andiamo Fatto in casa da Benedetta Cos'è? Chi è? Energy TV Proviamo Energy TV Tanto lo so che lo sbaglio Energy TV E invece E vai così Che ci dà un primo punto Energy TV Chi se make up 0-1 E contro Alice Like Audrey Questo è da intellettuali Un secondo Bace make up E vai così Mamma mia gli occhiali portano fortuna raga Blur contro la Juventus Ma che ne so In Italia sono tutti giuventini Avrà di più la Juventus E infatti Greta Menchi contro gli autogol Qua ne hanno tutte e due tanti tanti Me lo ricordo Ma secondo me Greta Ma questa qua è quella che mi porta a quattro No non posso sbagliarla Non posso No no vabbè Greta lo so Sono vicini ma ne ha di più Greta E vai così Va Prossimo Dobbiamo arrivare a cinque Sodin raga Matteo Fire Quindi Minecraft Contro Sodin di FIFA Ma Sodin me ne ha di più E infatti un milioncino per Sodinno Favij Contro Wayne Gamer Favij Favij ragazzi Cioè Dove leggete Favij Favij è quello che ne ha di più Quindi Lorenzino Con quasi quattro milioni di iscritti Lorenzo mi dai qualche iscritto Nel doppio di me Ma vaffanculo va Grazie Prossimo E siamo già sei raga Qua andiamo avanti E vabbè Zoda e Stefaninos Ne ha di più Qua neanche ragioniamo Ora abbiamo preso Il gap qua Cioè stiamo andando Yotopi Games Contro Joseph the Gamer Joseph the Gamer Ultimamente sta facendo tanti iscritti Ma mi sa che Yotopi Games Ne ha ancora di più Yotopi Games Grande così Prossimo Dai che dobbiamo arrivare a dieci Dai Anthony Di Francesco Con le sue puffette Contro quei due sul server Quello sul server Ne avranno un 600.000 Mi sa che Anthony Di Francesco Ne ha di più Sì Infatti Oh raga nove nove Questa è la volta buona Francesco solo o dei Jackal Vabbè raga De Jackal subito E 60.000 iscritti di differenza Non tantissimi Però siamo arrivati a dieci Raga siamo arrivati a dieci Non so chi mi ha aiutato Grazie Allora Ciuffi Rossi contro Dorian B Musica contro Parodiath Dorian B secondo me Ne ha di più Infatti Dorian B 440 Smasha così Ciuffi Rossi Di 140.000 iscritti Parte il dissing qua E adesso iniziano ad odiarsi i youtuber Grazie a questo video Che ne sapete Ciuffi Rossi contro Croa89 Ah Brutta Croa non di più dai Per forza 40.000 iscritti Guarda che è veramente difficile Non lo so Giocherignolo contro Tyler Strikes Giocherignolo raga ne ha di più Per forza Infatti Kiss and Makeup Prima ha vinto Con il 600.000 E Luke Beh all'epoca ne aveva 500.000 Quindi sicuramente ne avrà fatti di più Non voglio guardare Sì Ok Buono così Vai Ok la prossima è da milionario Quindi metto anche le cuffie Player Inside contro Mike Shawshus Vabbè Allora ho capito Tolgo le cuffie Jerry Grazie ma non uso gli aiuti Mike Shawshus Stepney contro Murray Vabbè allora raga qua Sembra occhi chiusi Stefanignolo E sempre avanti Lion contro Human Safari Videogiochi contro viaggi V per videogiochi O V per vacanze Boh Penso sia Lion Anche se seguo contro Nicolò E lo saluto Lion secondo me ne ha di più Dai così senza pudore Sì così Il doppio Il doppio ne ha Mamma mia Craft Maga Training Contro Alfix Allora non faccio Craft Maga E non credo che lo facciano neanche troppe persone in Italia Craft Maga Contro Alfix che non so minimamente chi sia Mi informerò Collito nel nado sicuramente mi aiuterà di più a decidere Alfix A caso Cosa Non è possibile No Ho fatto 17 punti raga Ma sono tanti Non scherziamo Alfix Ma ti fai battere Vabbè nel senso mi fai battere anche io da uno che fa Craft Maga Anche chi l'ho praticato da un giorno probabilmente Però Alfix Mi hai fatto come Marci Contro Coccole Sonore Raga riproviamo I Noob Channel contro The Show The Show è il secondo canale dei The Show Ma secondo me ne hanno di più gli i Noob Channel Ok Di 130.000 iscritti Vincono gli i Noob Peppe Gentile contro Double C Blog Peppe Gentile lo conosco Double C Blog Non so minimamente chi sia E che secondo me non lo sapete neanche voi Mi scrivete per favore Chi è che non conoscevate Oppure Anzi Meglio non sapere Magari fatemi sapere nei commenti Il vostro score Se ci avete provato a giocare Se ci giocate Proviamo di Peppe Gentile Non lo so E infatti ho sbagliato No Coldiz contro Giacchidale 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 potrebbe vincere in questo caso Infatti Doctor Vendetta contro Cane Secco Gerry ce l'hai ancora l'aiuto E qua andiamo a caso Allora se cade il telefono da questa parte Che spero di no È Cane Secco Se cade di qua È Doctor Vendetta Ok È caduto di qua Quindi Cane Secco Perché stupido iPhone Hai sbagliato tutto Da oggi sono sicuro di due cose nella vita Una che non ti devi affidare a Gerry E due che non ti devi affidare all'iPhone Probabilmente Zamp contro Pepo 3393 Pepone dovrebbe averne di più E infatti ne ha di più Di poco ma ne ha di più Adriana Spink Contro Kiss e Makeup 0 Gli piace A quelli che hanno creato il sito Gli piace Kiss e Makeup 0 1 O sotto le rifiazioni basi Kiss e Makeup dovrebbe avere 500.000 Io vado sul sicuro 500.000 Infatti 500.000 Per Kiss e Makeup Che noia Challenge Che noia Challenge Nuovo canale che noia Che noia Channel Contro No Coldiz Che noia Minecraft sovrano infatti Brazo Crew Contro Disney Channel It Brazo Crew Per forza Di poco Brazo Ma la Disney Channel No Prossimo Milan contro French Mall Allora l'italiano medio Se vuoi il calcio French Mall Non lo so Ah io butto sui French Mall E vai O i milanisti sono scomparsi O c'è qualche problema Con un canale di calcio Che c'è solo 350.000 Vabbè Nexor Flane Croa 89 Ma 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 Qua servono due dita nel naso Per cercare di capire La situazione Nexor Flame Proviamo Se sbaglio Croa Mi arrivano le urla Da casa sua Probabilmente nell'orecchio Aspetta che mi tappo Le orecchie Nexor Flame Ho vinto Oh secondo me Urla lo stesso Bello che mi tappo My personal pizza Contro Milan Milan Buono, che noia challenge contro rock moda, ti proviamo che noia, non lo so, ok Silverbrain contro fanpage.it, ah fanpage.it su facebook è fortissimo, ma silverbrain cervello d'argento Fanpage a caso? Sì, Dread contro knucklediz, vabbè Dread, video 5, mamma un milione Snitex contro Aaron Blaze Ma visto che l'iPhone non funziona giochiamo con l'iPad, allora di qua è Snitex e di qua è Aaron Blaze, ok? Snitex e invece no, neanche all'iPad vi potete, no, no neanche quello Proviamo l'ultima al volo, velocissima così con 5 secondi, Eternal Love o Lily Meraviglia, Eternal Love Va bene amici, mi devo un pochettino di più informare su cosa succede nel web e di quanti iscritti fanno le persone Perché alcuni me li ricordavo, altri no, comunque abbiamo fatto 17 punti nonostante ci fossero youtuber o persone o canali che io non conoscessi minimamente Sono cresciuti molto i canali negli ultimi anni, se volete vedere mi raccomando un altro video, 50.000 mi piace E vi porterò oltre che questo video magari anche un quiz su Tremia Grazie a tutti per essere arrivati fin qua, vi potete iscrivervi al centro, guardare il mio video di ieri Un altro video bellissimo da questa parte, noi ci siamo becca domani ed un prossimo video Stay angry, stay animals Ciao